Quella di oggi è la prima tappa ufficiale per costruire La Parigi-Londra, sì perché dovete sapere che è un progetto che da un po' a cui penso e lavoro Parigi-Londra in bici, ovviamente c'è una fantastica ciclabile che congiunge queste due capitali europee Insomma noi oggi ci accontentiamo di partire da Brescia e di arrivare a Cremona Il percorso è pianeggiante quindi oggi ce la rilassiamo Ma mettiamo un po' di chilometri, d'altronde la prima tappa ne seguiranno altre Dove siamo? Troviamo adesso con un gruppo di amici Siamo attraversando le fratterie del Tennessee Direzione? Direzione Chattanooga In un cielo così ci mancava un fantastico arcobaleno Oh, ole! Zero Scorpion Round 1 Fight! Fatality Finish him Anche la seconda foratura gestita con grande convivialità Grande senso di appartenenza e condivisione e tanto freddo E ci siamo comunque, ci siamo quasi, ci siamo quasi Alla ricerca di pane da tagliare e imbottire Alla ricerca di pane da tagliare e attraversando le freddo Alla ricerca di pane da tagliare e attraversando le freddo Alla ricerca di pane da tagliare e attraversando le freddo Alla ricerca di pane da tagliare e attraversando le freddo Grazie per la visione!